malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene nella precedente pillola dicevamo che sentiamo soltanto parlare di adeguamenti normativi di riforme bancarie di innovazione green o digitale in questi mesi nel dibattito europeo procediamo perché nessuno discute di adeguamento anche nei livelli dei servizi primari essenziali alla persona come ad esempio la sanità per tutti i cittadini europei indipendentemente dallo stato di riferimento quando si sollevano tali questioni cioè si pongono problematiche di tipo etico e di parità di diritti inevitabilmente si sollevano argomentazioni atte a confondere la testa dei cittadini per esempio uno degli argomenti solitamente più usati è quelli del recupero fiscale cioè del credito corrente dello stato grande enfasi viene infatti solitamente posta a notizie e programmi politici volti al recupero delle tasse ma quanto sono attendibili tali richiami e tali proclami beh ne risponderò nella prossima pillola qui mi fermo per osservare un grande equivoco e l'equivoco è che le tasse servano a finanziare queste cose le tasse servono a drenare un eccesso di liquidità posta in circolazione da banche centrali che espandono la spesa pubblica creando moneta dal nulla sostenendo investimenti pubblici questo in un mondo normale io sabato sera stavo ascoltando un illustre economista italiano il professor savona e savona parlava di un tema di fondamentale importanza cioè le criptovalute le criptoattività per essere più precisi o le cripto blockchain per essere forse ancora più precisi ebbene in un mondo che sta cambiando in modo incredibile le democrazie occidentali sono ancora molto indietro la cina blocca perché non riesce a controllare insomma siamo in una situazione veramente molto particolare e allora se noi vogliamo capire dove va il mondo dobbiamo capire che ci sono dei cambiamenti epocali in atto alcuni di questi cambiamenti riguarderanno per esempio il tipo di banca il tipo di banca e anche il tipo forse di banca centrale cioè credo che nei prossimi anni assisteremo a cambiamenti veramente importanti diventa difficile prevedere dove andremo ma certamente non ci saranno più le banche centrali come le conosciamo e non ci saranno più le banche commerciali come le conosciamo e di conseguenza tutti i ragionamenti dei politici attuali che parlano di recupero delle tasse taglio del debito pubblico eccetera sono linguaggi che ai miei occhi sembrano come dire dei ruggiti di dinosauri pronti a scomparire malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene